Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivato a Parigi in vista delle commemorazioni per l'ottantesimo anniversario del D-Day. Si unirà ad altri leader mondiali in una serie di eventi e cerimonie dedicate al cruciale sbarco in Normandia del 1944, la più grande operazione anfibia della storia militare che ha reso possibile la liberazione dell'Europa occidentale dal nazismo. Tra i partecipanti ci saranno anche i reali britannici e il presidente ucraino, Vladimir Zelensky. Il presidente russo, Vladimir Putin, invece non è stato invitato. In Francia, Biden dovrebbe rassicurare l'Europa sull'impegno statunitense per la sicurezza del continente. Tra i timori di dover rinunciare al sostegno degli Stati Uniti in caso di rielezione di Donald Trump, Biden incontrerà anche Zelensky per discutere di come Washington possa continuare a sostenere Kiev nella guerra contro la Russia, mentre l'Ucraina sta attualmente cedendo alla pressione di una nuova imponente offensiva delle forze del Cremlino.